Scegliamo il costume, togli l'etichetta, togliamo l'etichetta. Mia sorella fa, ma da qui com'è che si esce? Ma ce l'hai che esco dall'altra parte? Esco e lei dall'altra parte si chiude la porta lì, quindi siamo rimasti chiusi. Aspetta, un secondo facciamo, facciamo un video con l'Italia? E' un'altra parte, un secondo facciamo. Aspetta, un secondo facciamo. Muzica E' un quarto, un quarto e due. Ma chodzi un taré sagicum fritt. No vede strisare! Poi adesso ho perso il bacio, lei come l'ha ritrovato uto? Grazie per la visione! Grazie a tutti!